Leggere è crescere e imparare a stare con gli altri. E le scuole, le biblioteche e anche gli asili sono luoghi importanti perché, fin da bambini, il libro diventi un compagno di viaggio insostituibile. La Regione Pugna negli ultimi anni ha lavorato molto in questa direzione, portando i volumi anche nelle corsie dei riparti di pediatria degli ospedali pugliesi e per questo ha ricevuto una menzione speciale al Salone Internazionale del Libro di Torino. Un premio che il presidente Nichi Vendola ha festeggiato a Bari in mezzo ai bambini nella biblioteca intitolata Pinuccio Tatarella. Il rapporto con i bambini non può essere un rapporto frettoloso e superficiale, deve essere un rapporto in cui ci si dà l'agio di darsi il tempo necessario perché i bambini hanno bisogno di tempo, bisogna accompagnare i bambini verso la lettura e probabilmente accorgersi che i bambini sono degli straordinari insegnanti per gli adulti. Un vendola che ha condiviso con i bambini anche le magie visive dell'artista Jack Tessaro, vincitore del premio Nati per Leggere nel corso della manifestazione torinese. Fantasia al potere dunque, anche per gli uomini di domani. Noi pensiamo che il libro sia come un tappeto volante che può consentire lo sviluppo della fantasia dei bambini ma sia anche un vettore fondamentale per guadagnare futuro. I bambini che leggono sono bambini più forti nella loro crescita, nella capacità di dare valore ai propri talenti. laddove c'è fuga dalla scuola, analfabetismo, là c'è anche un destino preconfezionato di marginalità e di sconfitta sociale.